Importiamo di nuovo un MIDI file. Adesso si tratta di un corale di BAC. Lo visualizziamo nell'oggetto POLI, selezioniamo l'oggetto testo e valutiamo il risultato ed ecco la statistica espressa in MIDI CENT, dalla voce superiore alla voce inferiore. Il loop propone un meccanismo simile al precedente, importazione di una voce alla volta, estrazione delle altezze, estrazione degli intervalli, statistica, ordinamento, collezione e emissione in uscita dei risultati.